A causa di problemi tecnici riguardanti le reti internet ed elettriche, il comune di Terranuova Bracciolini ha ritardato di qualche giorno la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2015-2016. Dopo però un po' di attesa è adesso possibile ritirare il documento nei giorni che ci illustra il vice sindaco di Ponte. La consegna verrà effettuata nei giorni di lunedì dalle ore 10 alle 13, martedì dalle 15 alle 17.30 e venerdì dalle 10 alle 13. Nella sede di Palazzo Oncini in via Oncini. Riguardo al tema della caccia il comune ricorda il ripopolamento che in questi mesi è stato effettuato nella zona per mantenere l'equilibrio faunistico nelle campagne e colline limitrofe. Nei mesi di gennaio sono state lanciate da parte della provincia 14 lepri e da parte del comune di Terranuova 20 lepri. Così poi nel mese di marzo la provincia ha lanciato 96 facciani e nel mese di luglio il comune ha integrato questo lancio a 110 faccianotti. Ricordiamo che prima di entrare nell'ufficio caccia per ritirare il tesserino si deve essere in possesso di portodarmi in corso di validità, pagamenti regionali e governativi validi dalla data odierna, ricevuta di pagamento ATC se pagato dopo la scadenza e allegato giallo.